umani funzioniamo in questo modo e quindi è di fondamentale importanza far percepire la nostra mancanza alle persone, è molto importante perché se tu non fai percepire la tua mancanza alle persone queste non potranno mai razionalizzare il fatto che sono innamorate di te ed è un fattore fondamentale, un fattore fondamentale, quindi l'innamoramento è basilare da questo punto di vista perché noi possiamo, come possiamo dire, innamorarci, credere di essere innamorati quando sentiamo la mancanza di qualcuno e questo è anche una delle più grandi, diciamo, situazioni, delle peggiori situazioni per cui ci innamoriamo delle persone sbagliate perché si attiva l'immagine della perdita, bravo, viene la perdita di possesso e noi dentro di noi c'è l'immagine, io credo sia una sorta di archetipo che tra l'altro viene anche trattato nella micro psicanalisi di Silvio Fanti che si chiama proprio immagine della perdita, cioè quando noi perdiamo, diciamo, abbiamo la sensazione di perdere qualcuno, ci attacchiamo, ci aggrappiamo a questa situazione, per cui tutte le persone, un saluto a Green Apple, Grande Green, per cui tutte le persone che ci fanno in qualche modo sentire la mancanza, in qualche modo ce ne innamoriamo. Ovviamente questo vale per persone che non hanno una grande evoluzione perché questo non potreste mai farlo ad esempio con un Buddha fondamentalmente, no? Questo è da tenere presente, no? Voi non potete farlo con una persona, diciamo, che non potete farlo con una persona, come dire, realizzata, ma con persone che non, la maggior parte di noi poi fondamentalmente, che non sono persone realizzate e sentono ammancanza. Quindi se volete, come dire, far sì che qualcuno si innamori di voi, cara malgasciona, anziché dire io lo amo, io lo amo, perché se tu dici io lo amo e lo insegui, fai esattamente il contrario. Paradossalmente, un saluto anche a Betty, paradossalmente, un saluto Andrea Giovani, benvenuto Andrea. Paradossalmente le malgascione, le carampane, diciamo, cosa fanno? Fanno esattamente il contrario di quello che dovrebbero fare, anziché far sentire la mancanza, fanno sentire la presenza e quindi le persone è ovvio che non si innamorano di loro, perché praticamente, un saluto a Roxy, perché praticamente fanno esattamente il contrario di quello che dovrebbero fare. Tra l'altro c'è una cosa importante da dire, è che se noi non decidiamo cosa vogliamo dalla nostra vita, finiremo per fare ciò che gli altri si aspettano da noi, pensano di noi. E una cosa molto importante che dobbiamo eliminare è proprio il timore del giudizio delle altre persone, perché il timore del giudizio è un qualcosa di negativo, è un qualcosa di nefasto, è un qualcosa che dobbiamo assolutamente togliere di mezzo, perché se temiamo il giudizio, come dire, siamo panati fondamentalmente, siamo vinculati praticamente. Intanto iscrivetevi al nuovo canale Cammino Iniziatico con Massimo Terramasco, di cui posto il link qua sotto, che vi sarà molto utile anche per sviluppare una, diciamo, miglior percezione di voi stessi e sviluppare autostima. E tra l'altro, chi volesse poi abbonarsi al canale, a questo canale, può abbonarsi, basta che vada nella home page, chi volesse fare una piccola donazione, è ben gradita, basta che va sotto il video, sul dollarino e fa una piccola donazione. Comunque, andiamo avanti. Allora, quindi rinunciare a perseguire i propri obiettivi per fare ciò che crediamo, che gli altri si aspettino di noi, ad esempio, è l'inizio di una scelta che può sembrare anche comoda, no? Perché all'inizio, se tu gratifichi e basta, le persone in qualche modo ti danno retta, ti stanno a sentire, no? Ma in un tempo medio, questa ti genererà una sensazione di impotenza, perché tu ti innamorerai e l'altra persona non si innamorerà. E quindi finirai per trovarti in una situazione in cui stai vivendo la vita degli altri, non porti avanti, non valorizzi te stessa, non valorizzi te stesso e quindi non riesci a sedurre. Allora, quindi è molto importante definire una strategia micidiale, come ho detto io, per far percepire la mancanza delle persone. Non è detto che devi far percepire la mancanza a tutti, ovviamente, perché questo è, diciamo, è un qualcosa che in realtà non ha nessun senso fondamentalmente, no? Dopo un po' di tempo, se le cose funzionano, va bene, squadra che vince non cambia. Però siccome voi malgascione, anzi molte di voi malgascione, persone hanno delle situazioni in cui stanno con persone da cui ricevono meno che meno delle briciole, e allora se ricevete meno che meno delle briciole, sono cazzi vostri questi, cioè sono problemi vostri. Non serve stare a rimuginare, io lo amo, io lo amo. Dovete mettere in atto delle strategie per far sentire la mancanza, perché, ripeto, il presupposto di fondo è che nel momento in cui una persona percepirà la mancanza di voi e voi percepirà di essere innamorato. Si traduce in questo modo, anche se con l'amore non c'entra assolutamente niente, come diceva prima, è l'immagine della perdita che si attiva. Ovviamente, per far sentire la mancanza di una persona, il primo requisito che dobbiamo avere è la sicurezza in noi stessi, perché se una donna o anche un uomo, tra l'altro facciamo gli auguri a tutte le donne in occasione della festa della donna, facciamo gli auguri, ma vabbè, sono un po' anche contrario, però è giusto. Però, quando una donna o un uomo si sentono poco sicuri di sé, tendono a, come dire, a gratificare, a fare quello che l'altra persona a livello logico vuole. E una gratificazione eccessiva non porta da nessuna parte. Le persone che si fanno vedere gelose e possessive sono persone insicure, che non faranno mai sentire la mancanza, per cui questo è veramente un problema. Quindi smettete di essere gelose e possessive, di essere rompicoglioni, perché non vi porteranno da nessuna parte il bacio della morte e della seduzione e il canto del cigno della seduzione. Ora, bisogna imparare quindi ad aumentare la fiducia in se stessi. Come possiamo aumentare la fiducia in noi stessi? Beh, dobbiamo anzitutto, diciamo, renderci conto che la mancanza di fiducia in noi stessi ci porta a vivere guidati dall'insicurezza, a tentennare sulle decisioni, ad avere paura di essere lasciati, a pensare che se sei lasciata non riesci a fare nessuno. E quindi ti trovi in una situazione sentimentale affettiva in cui non ottieni nessun risultato. Quindi la fiducia in se stessi, diciamo che è il terreno fertile su cui piantare i semi della nostra autostima. Se il terreno non è fertile, diciamo, perché ci sono le erbacce, perché non è ben curato, crescono le erbacce della disistima, ovviamente non potremmo vedere germogliare le piante del nostro successo. Per cui iniziamo, buonasera anche a Sar, iniziamo a dare fiducia in noi stessi. Quindi per dare fiducia in noi stessi dobbiamo fare pace con la nostra parte emotiva e mettere gli antidoti alla disistima. Ora, la disistima, quindi la mancanza di fiducia in noi stessi, si manifesta attraverso tre pensieri fondamentalmente e noi dobbiamo mettere i pensieri contrari. Questi tre pensieri della disistima sono il pensiero di impedimento, cioè penso di non essere in grado di, come dire, superare gli antagonisti. E sono tutte quelle donne, quelle malgascione, che hanno paura che altre donne li portino via l'uomo. Se tu temi che un'altra donna ti possa portare via l'uomo, il compagno e il marito, sei una mentecatta, sei una smandrappata. E allora vuoi essere una smandrappata? E allora inizia a pensare che qualcun'altra ti porterà via il marito, ti porterà via il fidanzato. Sei una mentecatta, sei una poveraccia. Quindi invece devi mettere il pensiero opposto. Il pensiero opposto è io sono la persona migliore del mondo. Se questo non mi vuole, poverino, non sa quello che si perde, me ne trovo un altro istantaneamente. Metti questo pensiero, cioè ogni volta che percepisci che ti venga, che ti viene un pensiero di paura, ah, adesso vedi quella lì che magari pensi che possa insidiare, magari che ne so, oppure le ex, eccetera, un saluto a tutti e abusanti. Devi mettere immediatamente il pensiero opposto, perché sennò sei una mentecatta, sei una smandrappata, sei una poveraccia, sei una disgraziata. Metti il pensiero opposto. Fate come Adriana che esce e va, grande Adriana, brava. Ovviamente per conoscere persone devi uscire, non puoi stare a casa a girarti pollici, perché se stai a casa a girarti, certo, puoi far conoscenze su internet, però su internet le conoscenze sono sempre un po' limitate e limitanti, diciamo, no? Tra l'altro, poi se tu vai a cercare conoscenze su internet, troverai, diciamo, come dire, la maggior parte di sfigati, sfigate, quindi lascia perdere, cioè va bene, può essere una cosa complementare, quindi devi mettere il pensiero opposto. Quindi il pensiero opposto qual è? Io sono meglio di qualunque altra donna, oppure io sono meglio di qualunque altro uomo. Se uno non mi apprezza, se ne va a fanculo istantaneamente e me ne vado con un altro o con un'altra istantaneamente. Ovviamente quest'altro deve andare da Peppino alza la ghisa, grande, oppure va al circolo della bocciofila, non devi andare neanche da Gigino albibitaro o dalla famosa balera ciolanca sbilenca, perché se vai a cercare da Peppino alza la ghisa, dalla balera ciolanca sbilenca, oppure da Gigino albibitaro, oppure da, come si chiama quell'altro, ciccio giropizza, cinque euro, lì troverai sicuramente dei derelitti, più derelitti di te, che ti dici ma come faccio a trovare uno più derelitto? Perché poi se una persona si disistima, pensa di essere il derelitto dei derelitti, quindi immetti i pensieri, questo si chiama antidoto e sfrutta una cosa molto importante della nostra mente, la nostra mente non può tenere assieme due pensieri opposti, cioè io non posso pensare contemporaneamente mi piace l'acqua e non mi piace l'acqua, se metto volontariamente il pensiero mi piace l'acqua, il pensiero non mi piace l'acqua e sarà eliminato, quindi se tu emetti deliberatamente nella tua mente il pensiero, lo ripeti, proprio lo pensi, lo scrivi, lo pensi, io posso sconfiggere, io sconfiggere qualunque rivale, io sono la migliore di tutte, il pensiero negativo di impedimento sparisce e quindi vai a togliere già uno dei tamponi, uno delle zampe, uno delle gambe della disistima. Poi c'è il pensiero di incapacità, il pensiero di incapacità che cos'è? È percepire di essere usciti difettosi dalla fabbrica, di non essere in grado di sedurre, di conquistare, quindi metti il pensiero, io posso sedurre, io sono capace a sedurre, io sono capace a conquistare, io sono capace a far innamorare chiunque, perché devi metterlo dentro, no? Devi mettere dentro questo pensiero. Vai fratelli trapassi, circolo del cimitero, circolo per carampane sul limite del bardo, esatto, esatto, se incidenti. Quindi questo è l'altro pensiero che devi mettere, grande Andrea Giovani, è un altro pensiero che devi mettere. E poi c'è ancora un pensiero che è un pensiero nefasto della disistima che pensi di essere sfortunata. Io faccio sempre le carte con i tarocchi, però al di là dei tarocchi non puoi pensare di essere sfortunata. Ci sono persone che pensano che l'universo si accanisca nei loro confronti. Ti do un'informazione. All'universo di te non gliene fotte un cazzo. Cioè non è che l'universo ce l'ha con te, c'è una divinità che ce l'ha con te. All'universo di te non gliene frega assolutamente niente. Quindi l'universo non ce l'ha con te. Quindi quello che devi imparare a fare è a ribaltare la frittata. Intanto iscriviti al canale e così otterrai la possibilità di entrare in chat, di iscrivere in chat, fare una donazione al canale, cliccando sul dollarino, oppure almeno metti un like. Se sei un barbone o una barbona che non vuoi spendere un euro, almeno metti un like. Che like è gratuito, non ti costa niente metterlo. Se siete in 150 anni collegati sono 24 like. Quello è gratis e fa girare il video. Se il video ti piace metti un like. Non ti costa assolutamente nulla. Quindi vediamo di arrivare a 100 like perché anche i barboni, diciamo, proprio quelli nullatenenti possono mettere, possono mettere, possono mettere i like che non costa assolutamente nulla. Quindi mettete like. Se invece volete abbonarvi, fare un'offerta è ben gradito. Però almeno like, non fate i barboni anche. Perché poi queste cose qua a livello carmico tornano. Cioè se uno usufruisce di un servizio, adesso dico una cazzata, no? Che seguire un video. Ma almeno metti like se ti piace il video, se pensi che possa darti un, come dire, almeno che possa darti qualche cosa di importante per te. Perché si fa rigirare energia. Il like poi è una cosa che proprio ti costa zero, diciamo, no? E a livello carmico ti aiuta. Perché le persone che non danno nulla non possono pretendere di ricevere qualcosa poi dalla vita. Questo mettetevelo in testa. Io cerco di dare le mie informazioni, quello che conosco. Poi uno può piacervi, non piacervi, crederci, non crederci. Questo è un altro discorso. Io ci metto la passione per dare le cose. Quindi almeno un like, voglio dire, almeno un like, non vi costa niente metterlo e fate girare energia. Perché altrimenti vi tirate dietro la sfiga. Cioè, se non mettete neanche un like, ve la tirate proprio dietro la sfiga. Allora, quindi comunque, perché il karma poi risponde. Quindi, se uno prende senza dare, diciamo che a livello carmico ne ha le conseguenze. Il karma è l'unica, è una delle leggi dell'universo, no? Per cui a livello carmico noi dobbiamo sempre essere grati quando riceviamo qualcosa. Sono ad esempio nel buddismo si fanno le offerte dei fiori, l'offerta dell'acqua. Non è che uno deve fare chissà che cosa. Però, come dire, esprimere gratitudine, come dire grazie, no? Esprimere gratitudine è fondamentale, secondo me. Comunque, poi ognuno ovviamente degustibus, non disputando un mestre, libero di fare esattamente quello che gli fa piacere. Allora, quindi, devi eliminare il pensiero di pensare che l'universo ce l'abbia con te. Ce l'abbia con te. Tu hai fatto il danno? Che danno? Che live? Di che parli? Paratore? Escalation W6? Allora, diciamo subito che Adriana Paratore è vergine così e siamo a posta. Abbiamo risolto il problema. Allora, quindi andiamo a... Adriana Paratore è vergine. È vergine, è vergine. Guarda i commenti che stanno arrivando. Che commenti? Non ne vedo con me. Paratore, logica, qualità, mitologica, scientifica, senso unico. Che commenti arrivano? Ah, vabbè, gli uccelli del Guatemala. Va bene, andiamo avanti, dai. Paratore, fa quello che vuole. Allora, comunque, andiamo avanti col discorso, perché stiamo perdendo il senso, stiamo perdendo il baricentro. Allora, quindi, questo è un altro punto. Quindi mettiti, quando ti viene dentro un pensiero che sei sfortunata, pensa, io sono fortunata, io raggiungo i miei obiettivi, io ce la faccio. Questo è un altro punto importante. L'universo mi ama. Io sono grato all'universo e l'universo mi è grato. Inizia a mettere dentro questi messaggi per ottenere dei risultati. Quindi, questo è il primo punto per, diciamo, per fargli sentire la mancanza. Se vuoi rafforzare ancora l'autostima, datti anche dei piccoli obiettivi che sai di poter raggiungere. Questo ti consenterà di acquisire fiducia ogni giorno. E poi, un'altra cosa fondamentale, datti delle emozioni. Datti delle emozioni. Ad esempio, fai qualcosa che ti mette a disagio, esci un po' fuori dalla tua zona di comfort. Questo è un altro punto fondamentale. E poi, questo che piace molto agli uomini, cerca di realizzare te stessa. Perché, come dire, se vuoi far sentire la mancanza un uomo, anche da un punto di vista logico devi realizzarti. quindi, cerca di aver successo. Non puoi essere una sciampista deculturata, decerebrata, che, come dire, è povera pure. Quindi, cerca di valorizzare al meglio te stessa anche su un piano logico e razionale, in modo tale che chiunque interagisca con te ti percepisca come una donna di valore, una donna di successo, una donna di cultura, una donna realizzata, una donna femminile. Perché, diciamo la verità, tutto questo è molto utile, molto importante, molto importante valorizzare se stessi nel modo giusto. E, ovviamente, cerca anche di essere proattiva. Cioè, fai vedere che sei una donna di polso. Quando c'è un'occasione sociale, non state negli indisparte, ma esprimi con volontà, diciamo, e con, in modo assertivo, scegli le parole giuste. Le parole, quando interagisci con un uomo, e qua veniamo alla seconda parte, come fargli sentire la mancanza, sono importanti. Le parole hanno il potere di creare stati d'animo, hanno il potere di creare emozioni e sensazioni. Con le parole, noi, con le parole, noi possiamo tranquillizzare, incoraggiare, appassionare, dare emozioni, spaventare, emozionare. Quindi, devi cercare di tenere presente che quando interagisci va sempre, almeno nella seduzione, bisogna tenere presente che bisogna imparare a parlare di colpa a casa dell'infitto, parlare di colpa a casa dell'impiccato. Perché se parli di colpa a casa dell'impiccato, ottieni dei grandi risultati. Quindi devi imparare a scegliere le parole giuste. Quindi questo è molto importante. Le parole sono come semi che, una volta piantati, crescono e si radicano. E quindi, anche con te stessa devi dire le parole giuste. Metti un'attenzione consapevole. Metti un'attenzione consapevole nel, diciamo, metti un'attenzione consapevole nelle parole che dici. È molto importante questo. Libera la tua mente dai pensieri cupi e stirpa l'erba maligna. E un'altra cosa fondamentale, smetti di paragonarti agli altri. Perché se ti compari in modo fallimentare, la comparazione in modo fallimentare ad altre persone, è un'altra cosa nefasta che abbasserà la tua autostima. Quindi la vita è importante per questo. E poi devi attivare, diciamo, delle strategie comunicative per far sentire la mancanza. Ovviamente, per far sentire la mancanza, devi farti percepire come una donna di qualità, una donna di valore. Devi dare e togliere. Perché dando, diciamo, attenzioni, ad esempio, vai a stuzzicare una persona. Ma poi è solo togliendo che fai vivere l'emozione. Quindi, e tra l'altro, crei anche tutta una serie di cose fondamentali. Ma per fare questo, non è che devi avere la bacchetta magica. Devi sempre avere il tuo superpotere, che è la capacità di direzionare i tuoi pensieri. Soltanto se riesci a direzionare i tuoi pensieri. E' ovvio, se tu hai dei pensieri negativi, ah, mi sento sola, uh, mi sento triste se n'è andato, uh, ma come faccio? Ero sempre abituata che adesso, eh, gni, gni, se fai così, se fai il verso dell'ostrica, della regosta buttata nell'acqua bollente, non otterrai nessun risultato. Questo devi tenerlo presente. Il momento giusto è adesso. Non devi rimandare. Sono quelli che rimandano e dicono, ah, domani farò questo, domani è troppo tardi. L'unico momento che esiste è adesso. E c'è anche qualcuno che aveva scritto un libro, il potere dell'adesso. Quindi devi utilizzare il potere dell'adesso. La verità è che nella vita diciamo niente resta immutato e questo è molto importante, fondamentale, no? Tra l'altro devi liberarti delle abitudini negative, ma non togliere abitudini, sostituirle con quelle positive. migliorare te stesso, ovviamente. Io questo lo dico sempre, però è importante migliorare se stessi, fare una dieta sana, andare in palestra, insomma, cercare di stare bene, perché chi sta bene con se stesso poi sta anche bene con gli altri. Seleziona le persone che incontri, soprattutto se fai degli incontri online, tieni presente che la maggior parte dovrai scartarla. Non aver paura a scartare le persone, perché va a finire che poi ti aggrappi alle persone sbagliate, ti aggrappi alle persone di scarso valore. Quindi fai pulizia generale, come dire, a casa tua penso che ogni tanto butterai via, che ne so, vestiti che non indossi più, oppure magari li regali a un'amica. Buttate via le persone che non vi danno quello che volete. Come dice Vin, non fate proiezioni mentali. Non pensate, ah, ma quello è un libertino, ma prima o poi mi amerà. Perché non ti amerà? Inizia a rottamarlo. Rottama e fai nuove conoscenze. Non perdere tempo, non perdere tempo. Viviamo in un pianeta sovrappopolato, siamo in 8 miliardi di persone. È inutile che stai a perdere tempo con Mario Rossi se Mario Rossi non è la persona che ti dà quello che vuoi. Fuori dai coglioni, perché vale la pena far perdere la mancanza a persone che lo meritano, non a persone che non lo meritano. Quindi fai costantemente nuove amicizie in ogni situazione che incontri. E come dice Vin Dreams, il bel tempo si vede dal mattino. Quindi vivi nel presente, devi vivere nel presente, ovviamente puoi immaginare il futuro, però devi vivere nel presente, avere degli obiettivi. E gli obiettivi si trasformano con pensiero, decisione, azione. Questa è la sequenza, pensiero, decisione, azione. Quindi non aver paura a somministrare l'abbandono, non aver paura a somministrare il rifiuto. E soprattutto cogli l'attimo, perché l'abitudine di procrastinare è una delle peggiori abitudini della nostra vita. Dobbiamo agire e poi dobbiamo perseverare una volta che abbiamo definito qual è un obiettivo che vogliamo raggiungere. E poi un'altra skill fondamentale è imparare a stare da soli. Perché se non impariamo a stare da soli siamo dei mentecatti, delle smandrappate. Cioè imparare a stare da soli è un punto fondamentale. Ecco, quindi questo è, diciamo, sono le basi per far sentire la mancanza. Ora, se tu hai fatto tutto questo, saluta chicca, se tu hai fatto tutto questo verrai sicuramente percepita come una persona di valore, verrai sicuramente percepita come una persona di qualità, verrai sicuramente percepita come una persona che merita. E allora, nel momento in cui tu vieni percepita come una persona che merita, puoi mettere dei vincoli. Perché ci sono persone che iniziano a mettere vincoli, a mettere condizioni quando, diciamo, non hanno praticamente creato interesse nell'altra persona. È ovvio che prima devo creare interesse, prima di essere sfuggente e di mettere dei vincoli, cioè delle condizioni. Perché se non creo un interesse è inutile che metto dei vincoli, perché mi vinculo da solo. È come dire, se io non sono interessato a mangiare il risotto, è inutile che mi metti il risotto davanti. Non lo mangerò mai. Quindi è fondamentale farsi percepire come persone di valore, come persone sicure di sé, come persone che realizzate nella vita, che hanno grandi possibilità. Quindi questo è fondamentale. Trovare persone su internet è possibile, secondo me, ma bisogna fare attenzione a non cadere nella rete, perché internet è una rete, no? E nella rete del ragno, diciamo, puoi rischiare se resti imbrigliata nelle maglie della rete. Soprattutto in queste app di incontri, dove trovi solo Gegino il Bibitaro, Pippo, Peppino alza la ghisa, dove trovi sempre anche delle mignottone da competizione. Se sei maschio, lascia perdere i puttanoni da corsa. Nella rete, e se sei femmina, se vai nella discoteca c'ho l'anca sbilenca, troverai tutti gli uomini sposati. Se tu vuoi una tua relazione sentimentale affettiva, non devi neanche... non importa che sia bello, ricco, alto, biondo e col pisello grosso. Non importa niente, perché se sei sposato, ama la moglie, ti farà vivere delle situazioni negative, nefaste. A meno che tu non vuoi una trasgressione. Se tu non vuoi una trasgressione, vuoi una relazione, devi subito scartarli. E quindi internet sicuramente è un posto dove puoi trovare delle persone, ma attenzione a tutte le varie app, no? Perché si prendono spesso lucciole per lanterne. E' fondamentale quindi, una volta che hai identificato le persone giuste, è che queste persone si sono attratte da te. Perché, come diceva quel detto, noi non dobbiamo inseguire le farfalle. Perché se cerchi di acchiappare le farfalle è difficile. È molto più facile per prendere le farfalle e diventare un bel giardino. Se vuoi attirare un'ape senza essere punto, diventa un bel fiore. Diventa tu un bel fiore e vedrai che tirerai farfalle api e quindi riuscirai da sola a attirare le persone. Ed è fondamentale. Una volta che le hai attirate e che queste persone ti hanno valorizzata, beh, basta che metti dei vincoli nel tuo possesso. A quel punto lì basta che metti del vincolo nel tuo possesso. Vincoli graduali e crescenti. In modo tale che piano piano le persone, salutiamo Sericcia, inizieranno a fare delle cose per te. Anche piccole all'inizio, ma devono essere, devono essere, diciamo, crescenti. Quindi il vincolo deve essere sempre all'interno dell'indice di tolleranza. L'indice di tolleranza che cos'è? È il potenziale di seduzione che tu hai nei confronti di quella persona. Se tu hai un potenziale di seduzione 10, il tuo indice di tolleranza è 10. E quindi devi mettere un vincolo, non so, di 7, di 8, insomma, in modo tale che la persona lo faccia. E quindi nel momento in cui fa quella cosa, automaticamente il tuo indice di tolleranza da 10 passa a 12, 13. E quindi potrai mettere un vincolo superiore, anziché di 8, magari di 11, poi così via. Fintanto che li potrai mettere il vincolo, non so, sposami, portami all'altare, convivi con me. E intanto metti un like che non ti costa niente, come ho detto prima, dare energia, far girare energia. Quindi se non vuoi abbonarti, non vuoi spendere l'euro perché sei barbone o barbona, almeno metti un like che, questo like ti porterà qualche cosa, insomma, un po' di energia, ce ne siete, in questo momento 89, prima eravate di più, metti un like che è completamente gratuito e se ti vuoi iscrivere al nuovo canale, iscriviti tranquillamente al nuovo canale. Quindi liberati anche di tutti questi retaggi, diciamo, delle persone che ti portano via il tempo. Ad esempio, come dire, ci sono persone che ti dicono ti posso rubare 5 minuti? No, perché tu non mi devi rubare un cazzo, cioè questo è un punto fondamentale, no? Bisogna imparare poi a scartare tutte le persone, come dicevo, negative. È importante questo, nella vita bisogna levarci di tornica tramiste, le sciampiste, le persone pettegole. Tieni presente che una delle categorie peggiori, se hai a che fare con persone pettegole, quelle devi scaricarle subito, perché tra l'altro le persone pettegole ti rovineranno la vita, andranno a raccontare i cazzi tuoi a tutti e quindi evitare le finte vittime, tutti i vampiri energetici. Quindi persone pettegole, finte vittime, opportunisti, diciamo, scappati di casa, catramisti, sciampiste, eccetera, eccetera, quelli sposati, ansiosi, depressi, tristi, quelli devi scartarli tutti, immediatamente, perché non ti porteranno a nessun beneficio. Lamentosi, ruminanti, queste persone qua, i lamentosi pessimisti vanno scartati, i tristi vanno scartati, perché ti portano via delle energie, è spazzatura, è spazzatura. Questo è un punto, pure quelli che non si abbonano vanno scartati, infatti qua c'è l'elite, la creme della creme, ma poi neanche mettono like, che non costa niente, vabbè, comunque. Questo è un altro punto fondamentale. E smetti di fare le cose che non ti piacciono, smetti di fare le cose che non ti piacciono, perché devi iniziare a scegliere di stare bene, a scegliere di stare bene, questo è fondamentale, è una scelta che devi fare tu. Le persone che ti danno tutte cose, dicono tutte cose negative, che si lamentano, non ti fanno stare bene. Questo è un punto molto importante, un punto fondamentale, perché in questo modo diventerai veramente una persona intrigante, in questo modo diventerai veramente una persona di valore, in questo modo diventerai veramente una persona che merita qualcosa. E questo è fondamentale. E una persona che attrarrà. Un saluto a Circe, benvenuta anche a Circe. Devi imparare a difenderti, devi imparare a difenderti scegliendo, diciamo, le persone che meritano la tua fiducia. Comunque circondati di persone che emanano energia positiva e che danno energia positiva, perché noi assorbiamo. Quindi persone che non danno energia positiva, scartale, scartale assolutamente. Quindi tu hai un grande potere e il gioco della vita, vivi tutto come un gioco. Quindi devi iniziare a essere sfuggente, devi iniziare a essere sicura di te, devi iniziare a essere misteriosa o misterioso. Non devi credere ai falsi miti dell'amore. L'amore che ha nulla amato amar perdona. È un falso mito dell'amore. Nessuno si innamora perché amato. Ci sono dei falsi miti dell'amore che non portano nessun risultato. Quindi questo è un punto fondamentale. Avere amore proprio, invece, significa essere convinti di meritare una vita pagante, libera, felice. E questo è un altro punto che devi tenere presente. Dante è andato in bianco con Beatrice. Ma se Beatrice, però Dante è andato in bianco, il fatto che Beatrice non gliel'ha data, però lui è riuscito a canalizzare. Non ha fatto tre uscita frutto, Dante, per il fatto che Beatrice non gliel'ha data. Ha fatto l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Ma voi non siete Dante. La maggior parte delle malgascione, magari foste Dante, che c'è qualcuno che ti lascia e tu scrivi tre capolavori di taratura mondiale. Allora vorrei essere il primo. Lasciatemi. Se avessi la capacità di diventare Dante, siamo ricevente. Esatto. Voi non siete Dante, ma siete ricevente. Quindi questo è fondamentale. Non sei neanche la bella addormentata nel bosco. Cioè se stai lì a aspettare che il principe venga, diciamo, a svegliarti, aspetta e spera. Diventerai uno scheletro. Quindi Circe Song e Chicca Chicca. Benvenuta Chicca Chicca nonché Circe Song. Quindi tira fuori il guerriero che è in te. Tira fuori la guerriera che è in te. Una donna di valore, un uomo di valore, una donna di qualità, un uomo di qualità. E quindi questo è quello che devi imparare a fare per generare, diciamo, la mancanza nell'altra persona. Quando tu ti sei sviluppato in questo modo, beh, vedrai che le altre persone, quando tu ti allontanerai, inizieranno a sentire la tua mancanza. L'errore che fanno molte malgascione, molte carampane, è di allontanarsi senza essere riuscite a farsi percepire come persone di valore. E allora, se tu ti allontani e quello se ne fotte di te, è perché non ti ha percepito come una persona di valore. Ci sei dimenticata tutta questa prima parte, che è fondamentale. Perché se tu hai fatto bene tra questa prima parte, prima di tutto con te stessa e poi nel rapportarti agli altri, allora verrai percepita come una persona di valore, allora potrai mettere dei vincoli, allora potrai allontanarti. Questa è veramente una strategia micidiale, molto potente per far sentire la mancanza a una persona. Ovviamente devi anche osservare la tipologia che hai davanti, devi anche imparare a osservare le persone che hai davanti, che tipo di persone sono. Sono persone, diciamo, di un certo tipo o sono persone di un altro tipo? Questo l'ho detto in diverse situazioni, è molto importante capirlo, perché questo è fondamentale. È ovvio che poi non deve neanche avere fretta, la fretta è cattiva consigliera, la fretta è veramente cattiva consigliera e attenzione se sei donna alle altre donne, perché non sempre, però alle volte diciamo che ci sono delle donne tra loro che, insomma, le gatte morte, fai attenzione alle amiche gatte morte, perché le gatte morte, non è che devi essere gelosa, assolutamente no, però riconosci le false amiche, perché questa è una cosa, liberatene immediatamente, devi liberatene immediatamente, è più qualcosa di femminile che maschile. Devo dire che tra gli uomini c'è più solidarietà, forse, mentre tra le donne c'è più invidia e ci sono tante false amiche. Ora, non devi assolutamente essere gelosa di nessuna, ripetevo prima, però devi levartele dai coglioni, quindi non stare a riconosci le scroccone, ad esempio, ci sono delle amiche che scroccone, ma anche per gli uomini, le amiche scroccone o le donne scroccone, levatele dal coglione, fa anche le scroccone, levatele dal coglione, da un coglione solo, perché le scroccone sono, diciamo, persone negative, nefaste e se sei maschio non devi fare il cavaliere servente, te lo dico, se fai il cavaliere servente sarai un perdente, oggi tiriamo fuori le rime, se fai il cavaliere servente sarai un perdente. Le donne che cercano il cavaliere servente, lasciale agli altri, mandali a fanculo seduta stante, non prendi neanche in considerazione, intanto sono delle poveracce, sono delle disgraziate, sono delle morte di fame, quindi lasciale perdere. Tutte quelle che cercano il cavaliere servente, lasciale perdere, perché se tu ti presenti come il cavaliere servente, sarai un perdente. È ovvio che vale anche per gli uomini, ovviamente, e vale anche per le donne, ovviamente, non presentarti come sottona, o rischierai di fare la battona, no, non c'entra la battona con sottona, non c'entra, però non fare la sottona, altrimenti mi viene battona con sottona, però battona e sottona non è che c'entrano tanto e non mi viene la rima, cavaliere servente perdente, sottona, mignotona mi viene anche, ma non c'entra, puttanona, ma non c'entra, non so che rima si può fare con sottona, se sei una sottona, boh, vabbè, non mi viene la rima, insomma, mentre il cavaliere servente, cioè mi viene delle rime, mi vengono delle rime che non c'entrano, però teniamo presente questo, che quindi evita anche tu di fare la sottona, devi dimostrare di essere una donna di valore, una donna di qualità, una donna di successo, di successo nella vita, nel lavoro, nel danaro, nella professione, una donna di successo sociale che attrae, attrae, questo è fondamentale, questo è fondamentale, e se tu riesci a fare questo, ottieni dei grandi risultati, vedrai che gli uomini ti cercheranno, il principe azzurro non esiste, però puoi trovare l'uomo giusto, cioè se tu speri, trovi il principe azzurro, sappi che non esiste, però l'uomo giusto lo puoi trovare, l'uomo che si adatta a te almeno al 30%, e puoi trovarlo frequentando dei luoghi, ad esempio, puoi trovare l'amico dell'amico, puoi trovare, frequentare dei corsi, non lo so, fare camminate, talvolta come dicevo anche su internet, però bisogna stare un po' attenti, ma non devi dare l'impressione che sei in cerca e sei in caccia, anzi, non devi neanche essere in cerca e in caccia, devi semplicemente manifestarti, attraverso la tua manifestazione otterrai sicuramente dei risultati, intanto iscriviti al canale, ovviamente, così troverai le notifiche dei nuovi video, quindi iscriviti.